E cala? Ebbè, quando giocio, questa è una poesia, questa è lirica proprio, aspetta mi do una serizzazione. Allora dice reintegro, assunzione, licenziamento per giusta causa, licenziamento per motivi economici, crisi d'impresa, cessazione dell'attività, processo e veloce, processo lento. E ancora, ammortizzatori sociali, indennizzo, fondo di solidarietà, incentivi over 50, procedura d'urgenza, modello tedesco, paternità obbligatoria, risarcimento. Non basta, Angelino che dice, peccato, era meglio il decreto, e Pierluigi che replica, de che tanto lo cambiamo in Parlamento. Ed Elsa che piange, mi dispiace tanto, tanto, tanto che Susanna non ci sta. E Susanna? Cara Elsa, le tue son lacrime di coccodrillo, questo è il mio commento. E Mario Duro? Il testo comunque non si tocca, nessuno si ricorda come stiamo. Vado in Cina? Sì, ma mi stupisce e mi amareggia ciò che sento. A questo punto Baxio Sornione gli viene da commentare di fronte a tutto sto tormento. Siamo in Italia, cari, non dimentichiamo, lasciamo dunque ogni pena e l'imbarazzo. Al bel paese, ognuno lo sa, si cambia tutto. Ma perché non cambia un cazzo?